Sono 113 le sculture che animano il giardino di Daniel Sperry, un parco artistico immerso nella natura della provincia di Grosseto. Creato negli anni 90 dal ballerino e coreografo di origini romene ma naturalizzato svizzero, è oggi un luogo di scoperta immersiva. In estate le cicale fanno da costante e assordante colonna sonora, mentre le narici vengono solleticate dal profumo di fieno tagliato e la curiosità è stimolata dalle opere più bizzarre e fantasiose. Ideatore della Heat Art, corrente fondata nel 1967 per avviare una riflessione critica sui principi fondamentali della nutrizione, Sperry ha chiamato a raccolta artisti di vario genere per creare un insieme fatto di colori, forme e materiali differenti. Nessun percorso da seguire nel giardino di Daniel Sperry, ma un invito all'esplorazione lasciandosi guidare dall'istinto, senza dimenticare di aguzzare la vista per scovare dettagli più nascosti. Il giardino è aperto dal giovedì alla domenica, ma dal 1 novembre al 31 marzo si accede solo previa prenotazione.